E' iniziata l'udienza preliminare del processo per l'omicidio di Aldonaro, il medico 25enne ucciso nella discoteca Goa di Palermo la notte del 14 febbraio del 2015. Il Gup Rosario di Gioia dovrà decidere se rinviare a giudizio tre buttafuori Gabriele Citarrella, Pietro Covello e Francesco Troia, accusati del delitto unitamente ad Andrea Bassano all'epoca dei fatti minorenne, condannato in via definitiva. Il processo per l'omicidio è scatodito dalla denuncia presentata all'indomani del delitto dai genitori della vittima, il generale dei carabinieri Rosario Naro e la moglie Anna Maria Ferrara. Siamo sempre stati convinti, affermano, che nostro figlio non è stato ucciso dall'unico calcio sferrato dal minorenne Bassano, come sostenuto dai magistrati inquirenti, ma dalla ferocia aggressione a calci e pugni di una masnada di individui maggiorenni che quella notte avevano avuto come obiettivo esclusivo il povero Aldo. Secondo la tesi dei genitori non si è trattato di una rissa, reato per il quale è ancora in corso separato un processo, ma di un omicidio volontario in concorso. L'imminente udienza preliminare, continuano il papà e la mamma di Aldonaro alla vigilia dell'udienza, può rappresentare un vero e proprio punto di svolta in questa lunga e tormentata vicenda giudiziaria. Di sicura essa rappresenta anche un importante risultato della battaglia legale che abbiamo condotto insieme ai nostri avvocati Salvatore e Antonino Falzone. Per ben due volte ci siamo opposti con forza, dicono i genitori, alla richiesta di archiviazione del processo di omicidio. Abbiamo anche dovuto sopportare il trauma della esumezione del cadavere di nostro figlio. Le nostre ragioni supportate dai risultati della nuova TAC sono state accolte da due giudici coraggiosi, il dottor Sestito e il dottor serio ai quali concludono i genitori la nostra gratitudine.